Se la vedi, nella realtà ti rendi conto più facilmente di tonalità, quindi controvento non si va quasi mai, però se tu riesci a stringerlo, quindi a portarti il più possibile controvento, teoria di navigazione, il più possibile nella distanza, arrivi prima rispetto ad altre mete, perché hai uno spazio di lavorazione, è chiaro, il lavoro è chiaro, sei qua, devi andare qua. E ci sono 5 km, mi temporerai 20 per arrivare, ecco, se tu per ipotesi fai questa, poi fai questa andatura, cioè tu fai zig zag in pratica per arrivare a questo punto, però se la mia barca riesce a stringere il vento il più possibile, quindi riesce a navigare mantenendo il tutto possibile controvento, fai molto meno zig zag per arrivare nella metodo del mondo. Quindi l'importante è che si ordiene il più possibile per guadagnare il tutto possibile una volta.